Ciao a tutti, sono Simone Sarpioni, del Sistema Nazionale Italiana, mi sto preparando per Rio. Partirò venerdì e sto abbastanza bene, potete vedere dal set a gareggiare e niente, è un sogno che sta avverando e mi sto preparando al meglio, non vedo l'ora e mi raccomando seguiteci usando tutta la Romagna e vi voglio bene.